Salve a tutti ragazzi, sono ZWheelix ed oggi sono qui con un nuovo video di GTA Online in cui mostrerò un confronto tra i migliori veicoli super e gli ultimi due veicoli usciti con il nuovo aggiornamento a sorprese dalla Rockstar, ovvero la Banshee 900R Super e la Karin Sultan RS Super Se non conoscete questi due veicoli vi consiglio prima di dare un'occhiata al video nella descrizione di questo video in cui mostro tutti i dettagli riguardo questo veicolo, le loro modifiche e quant'altro Prima di cominciare vi ricordate se non vi piace, ci vogliono solamente due secondi di cliccare con il botone in blu Lasciate per la sua pagina Facebook, la trovate in descrizione di questo video inoltre iscrivetevi al canale se non è ancora fatto per altri contenuti Come sapete con il DLC recente fatto uscire dalla Rockstar a sorpresa i due nuovi veicoli inclusi nell'officina di Benny li possiamo trasformare dalla categoria sportiva alla categoria super se li andiamo a modificare, soprattutto se li andiamo a modificare al massimo cosa che originariamente non si poteva fare in quanto questi due veicoli Nonostante esistessero, l'officina di Benny prima non ci permetteva di importare modifiche a questi due nuovi veicoli aggiunti nel sito dell'officina di Benny Infatti oggi andremo a vedere se questi due veicoli sono buoni anche per prestazione e non solo per estetica Parlando subito della Banshee 900R possiamo notare come tenga un'ottima accelerazione e riesca a tenere testa ai migliori veicoli super del gioco in fatto di accelerazione Infatti oggi andremo a vedere sia un test dell'accelerazione che un test della velocità massima Ecco qui invece il test della Karin Sultan RS che però vi dico subito che non sarà delle migliori anche se mi sembra una cosa abbastanza scontata in quanto si vede che non si tratta di un'auto super Nonostante l'officina di Benny ci permetta di trasformarlo nella categoria super Infatti nell'officina di Benny la Rockstar ha aggiunto anche una trasmissione che negli altri veicoli non si può aggiungere Intendo ovviamente una modifica da prestazione Sto parlando della trasmissione super che si tratta dell'unica trasmissione esistente nel gioco solamente per la Karin Sultan RS E ovviamente è stata aggiunta apposta dalla Rockstar in modo che la Karin Sultan riesca a tenere testa agli altri veicoli super Infatti come vedete nonostante non si tratti di un'auto super ha comunque avuto un buon risultato Ovviamente molto scarso rispetto agli altri veicoli super però essendo che originariamente si tratta di un veicolo non super Nonostante si possa trasformarlo mi sembra un buon risultato Invece gli altri veicoli super come vedete hanno veramente un'ottima accelerazione Una cosa che dovete sapere è che molto recentemente sto parlando di ieri da quando sto facendo questo video La Rockstar ha aggiunto un hotfix diciamo una correzione del gioco però senza aggiungere una nuova patch Senza aggiungere una nuova patch riguardo la Banshee 900R Perché prima di questa correzione fatta nel gioco senza aggiungere una patch La Banshee 900R aveva una prestazione da schifo e addirittura era peggio della Banshee 900 sportiva Quindi io sono anche abbastanza contento che la Rockstar abbia corretto diciamo questo bug In quanto non è possibile che andiamo a trasformare un veicolo da sportivo a super Per poi avere delle prestazioni peggiori della sportiva anche se modifichiamo al massimo il veicolo Per fortuna diciamo che hanno aggiunto questa specie di hotfix tra virgolette ecco Parlando invece dei risultati che abbiamo avuto nelle accelerazioni La Progen T20 ha vinto il primo test però si tratta veramente di una differenza molto molto lieve E niente in particolare Però come vedete insomma la Banshee 900R è riuscita ad arrivare seconda Ed è riuscita a tenere testa agli altri veicoli addirittura E come vedete tra i primi quattro veicoli e gli ultimi due veicoli c'è una bella differenza Però insomma tra i primi quattro veicoli non c'è una grandissima differenza Come vedete per il momento il test lo sta vincendo la Banshee 900R Anche con una grossissima differenza a sorpresa E non me lo sarei mai aspettato in quanto l'adder so che si tratta Tecnicamente del veicolo più veloce in gioco senza la Banshee 900R Invece se andiamo a vedere insomma gli altri risultati delle altre super Possiamo notare che non ci sono grandissime differenze A parte con la Banshee 900R E diciamo che si tratta di un risultato abbastanza scioccante tra virgolette Ecco come vedete in questo test ho fatto diciamo Multipli test sempre nella stessa gara Per fare in modo che insomma i test vengano il più precisi possibili Ecco qua infine i nostri risultati del test numero 2 E a sorpresa vince veramente anche di tanto la Banshee 900R Quindi questo risultato ci garantisce che la Banshee 900R Attualmente si tratta del veicolo più veloce del gioco Sia ad accelerazione che di velocità a sorpresa Quindi se cercate prestazioni e se volete vincere tantissime gare nella categoria super Compratela a Banshee 900 e modificatela al massimo Trasformatela in super Perché vi garantirà ottime prestazioni Insomma questi sono i risultati E li potete notare benissimo anche voi quanto di stacco c'è tra la prima e la seconda Tre secondi che sono veramente tantissimi Essendo che si tratta di un test di velocità Quindi niente ragazzi Spero che questi risultati vi possano aver schiarito un po' le idee riguardo i veicoli super Riguardo l'aggiunta di questi due nuovi veicoli Se garantiscono anche prestazioni Oltre che estetica oppure no Il prima possibile cercherò anche di farlo quelle sportive In modo che possiamo vedere anche il miglior veicolo sportivo del gioco E cercherò di farlo il prima possibile Intanto vi ricordo che se volete vedere altri confronti con questi tipi di veicoli Vi lascerò la playlist dei video dei confronti che ho fatto fino ad oggi Sui veicoli di GTA Online Link nella descrizione di questo video E niente ragazzi Detto questo Per farlo lasciare un piacere Ci vogliono Solamente se sconti di cliccare quello del blu Lasciate un piacere un piacere a Facebook La trovate un'inscrizione a questo video Iscrivetevi al canale Non è stato ancora fatto per altri contenuti Da ZWX è tutto Ci sentiamo al prossimo video Vai speedy fammi l'outro Ciao 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 Ciao